Sì, però Roby è sempre davanti. Skinny shark. Vai Roby che te la ricordi perché io... Io me la ricordo. Ecco, questo sarebbe da fare. Vedi come si fa? Sì, sì. Oh, Gio, per me questo lo fai, eh. No, no, non ero in assetto giusto. Mmm, mmm. Mmm, anche questo, vedi? Mmm. Anche questa è un po' pesa, mi sembra. Ah, allora anche te hai dei limiti. Tappi che... Tappi che... Tappi che... Grazie a tutti. Vai! Troppa! È grande! Qua ce n'è un altro! Vai del chias! Troppa! Troppa! Questa Tommy! Questa qui si faceva! Mamma mia! Si fa ma... Ci si stringe un po' il culo! Mamma mia! Sono morto! Ti giuro! Sono morto! oh non fai Gio dove vai? cosa fai?